La storia del beato Carlo Acutis E l'intervista esclusiva alla mamma realizzata dal nostro direttore Armando Munao e Weimer Perinelli Franco Zadra dialoga con Monsignor Lauro Tisi, arcivescovo di Trento Manifestare liberamente il pensiero È un diritto o un privilegio per pochi? A rispondere a questa domanda è Emanuele Paccher Marco Nicolò Perinelli ci parla di una nuova regione autonoma, libera e democratica Dare all'Italia concretezza e coraggio È un quanto mai interessante articolo a cura di Cesare Scotoni Weimer Perinelli nella sua rubrica Le interviste impossibili Incontra Giulio Cesare, lo spietato imperialista Art in Nature, quando l'arte ritorna alla natura È un interessante articolo a firma di Eleonora Mezzanotte Nicola Maschio ci parla della ripresa economica delle aziende in Trentino Il direttore Armando Munao firma un ampio servizio sul nuovo percorso di studio innovativo Per il futuro dei giovani e della nuova scuola di logistica dell'Università Popolare Trentina A che punto siamo con la parità di genere nel 2022? A questa domanda risponde Patrizia Rapposelli Claudio Girardi nella rubrica Sport e personaggi ci parla di Fabio De Paoli, un Trentino di Serie A Laura Manzini ci presenta il personaggio di Casa Nostra, il docente e artista Domenico Biondi Chiara Paoli intervista Marzia Bortolameotti, fondatrice di Donne di Montagna Nella rubrica Ieri avvenne Maurizio Panizza ci parla della pellagra, la malattia dei poveri Massimo Daledonne ci presenta Gerolamo Bortondello, scrittore e scienziato morto a Borgo Valsugana nel 1692 L'avvocato Erika Vicentini ci spiega il reato di diffamazione e l'uso dei social E ancora tanti altri articoli e servizi che riguardano le nostre comunità Grazie per l'attenzione e arrivederci al numero di maggio di Valsugana News Il mensile gratuito di Casa Nostra